Buongiorno, ben trovati ad una nuova diretta di Mattina Live. Iniziamo la nostra giornata presentandovi un libro, un volume, il piacere della lettura che ci proietta quest'oggi a conoscere una storia di enorme valore umano che corre però su due binari distinti ma uniti da una forza che emerge appieno attraverso la conclusione di questo volume. E' una storia che vede da una parte il tennis ma dall'altra una ricca vita di emozioni appunto declinata in tutte le sue sfumature. Tutto questo è al centro di Terra Mia ed è l'opera di Giovanna Dan che ripercorre la storia di Pino Ferrara ovvero la storia di suo marito con al centro il suo mondo sportivo ovvero il tennis. Ecco la copertina, colgo l'occasione per salutare il nostro regista Salvatore Mondo che per l'appunto la sta rimandando al nostro pubblico di Mattina Live e noi per l'appunto qui abbiamo i protagonisti. Buongiorno Giovanna, ben trovata. Ciao, grazie mille. Dunque, Terra Mia, al centro la storia e la vita di tuo marito Pino Ferrara che racconta appunto i sogni che un po' accomunano tutti quanti noi. Allora sì, beh, vivere per 30 anni con uno sportivo è come viaggiare ogni giorno verso luoghi diversi. È un misto di emozioni che ho imparato a conoscere in quanto lui sulla base dei ricordi, magari a quelle emozioni che cambiano continuamente pensando alla lotta che ha dovuto affrontare per arrivare a vincere un match, le coppe vinte, quelle perse. Queste emozioni che io ho percepito e ho fatto mie. Infatti sono proprio questi effetti collaterali dello sport che mi appassionano. Cioè non tanto la tecnica che c'è dietro, come giocare. Tutto quello che è rotattono, tutto quello che è merito, quell'alone emozionale. Sì, e ti ripeto, posso darti del tutto? Come no? Grazie. Proprio questi effetti collaterali che alla fine segnano una persona, cioè ti danno l'identità. Pino ha incominciato a sei anni, quindi in un periodo che, voglio dire, anche il concetto del denaro è lontanissimo, non c'entra niente. E quindi è proprio quella sua appartenenza allo sport. Motivato da profonda passione, una passione che però appunto conosce sin da piccolino, all'età di sei anni. Eccolo Pino Ferrara. Salve, salve a tutti. Il piacere però ecco di raccontare una storia di grande valore, perché in realtà è una storia che comincia però col pietre sbagliato. C'è sicuramente lo sport, questa passione all'età di sei anni, ma anche subentra una malattia che spezza in realtà i tuoi sogni. Ma con la tua capabilità, la passione che però appunto ti contraddistingue, che racconta Giovanna, riesci a superare tutte le difficoltà e a realizzare questo sogno indescrivibile attraverso lo sport, lo tennis. Come stai dicendo tu, da piccolino mi fu diagnosticata questa pericardite, malattia del cuore. Sono stato male, va bene, ricoverato tanto tempo in ospedale, poi siamo riusciti a superarla, altrimenti non stavamo qua parlando del libro e del tennis, a raccontarlo. Però il destino ha voluto che dalla malattia, dalla pericardite, insomma questo soffia al cuore, parliamo di tanti anni fa, non era come oggi, oggi è anche una malattia diciamo piuttosto grave, però molto curabile. All'epoca faceva paura avere insomma questa malattia, questa pericardite. Per poter poi affrontare lo sport, in relazione allo sport diventava sicuramente molto più preoccupante. La bellezza di Terra Mia è che a decidere di scrivere, quindi dedicare delle pagine a Pino Ferrara, sia proprio tu, ovvero la moglie di Pino che per l'appunto vive un po' insomma dietro le quinte, tutto lo scenario, tutte le emozioni, i sogni, ma probabilmente anche qualche delusione, qualche preoccupazione, la paura di non farcela. Perché decidi di scrivere e di dedicare questo libro a tuo marito? Questo è sicuramente un grande atto d'amore da parte tua. Sì, indubbiamente. Essendo la moglie sì, c'è un amore diciamo personale, però è proprio, ti ripeto, un amore amore che va, che è il risultato, nel concetto pieno, no? Sapevo perfettamente, sì, sapevo perfettamente cosa provava, cioè giorno per giorno, giorno per giorno. E poi devo essere sincera, ci sono nel libro delle testimonianze abbastanza importanti, di campioni del tennis che hanno veramente fatto la storia degli annali del tennis italiano e non solo, e dedicavano a lui delle parole, delle bellissime frasi, che mi sembrava, peccato, lasciarle andare via così. Lasciarle una testimonianza, no? Ecco. Per iscritto, diventare qualcosa di doveroso. E quindi quasi un documento, gli ho regalato un documento, diciamo così, suo, che fa parte del curriculum, va? In realtà direi qualcosa che vada oltre, il semplice curriculum, perché per l'appunto qua si parla di valori umani che per l'appunto potranno lasciare testimonianza alle nuove generazioni e soprattutto che cosa lo sport può regalare. Protagonista per l'appunto è lo sport a mani preciso il tennis e quindi io ti chiedo, Pino, che cosa ha significato per te in tutti questi anni il tennis? Allora, tutti questi anni raccontarlo è molto, diciamo, un po' complesso, nel senso che a me mi ha dato tantissimo, mi ha dato la forza di andare avanti in tutte le difficoltà che noi abbiamo giornalmente. Diciamo, mi ha fatto prima cosa capire il sacrificio, che oggi è molto difficile farlo capire ai giovani, la competizione, soprattutto l'educazione allo sport e l'educazione alla vita, perché il tennis poi ti forma oltre come atleta, come giocatore, però tu hai delle regole dove queste regole le devi rispettare. E questo che ti ha aiutato a superare le difficoltà, ecco, le difficoltà di un infano prodigio, no, di questo sport. Quando hai avuto i momenti di difficoltà, come sei riuscito a superare il tennis? In cosa ti è servito? Solo disciplina? Allora, il tennis nei momenti di difficoltà ti insegna a lottare, a lottare nella vita, a non arrenderti, ad andare avanti, perché è uno sport poi individuale, uno sport singolo dove stai tu, l'avversario e il campo. Dunque ti forma, ti forma a livello caratterale tantissimo e ti dà insomma quella forza di andare avanti. Io mi ritengo molto fortunato della mia, diciamo, vita da atleta, da tennista, perché alla fine parte che mi ha dato modo di conoscere persone, come diceva Giovanna, persone di ampio profilo, di ampio spessore e attraverso loro apprenderne ancora insegnamenti. Tra l'altro tutti questi insegnamenti che decidi di mettere a frutto e a servizio anche dei giovani talenti emergenti, dei tennisti del domani perché tu oggi alleni i tennisti del domani, quindi che ruolo rivesti in questo caso, che responsabilità assume? Sì, io gestisco a Casoria il tennis club Casoria dove sono maestro e presidente del circolo con Francesco Grande che è il mio socio e niente, troviamo una scuola tennis di oltre 70 bambini, poi abbiamo un agonista dove, è un'agonistica, una scuola agonistica di ragazzi di livello, proprio cercando di portarli a un livello, loro stanno facendo tornei di grandi competizioni. Vediamo se qualcuno di loro, c'è qualcuno che promette bene, però la strada è molto lunga, piena di sacrifici. E beh, tu sei una fattiva testimonianza, però con grandi risultati, quindi... Sì, ti ringrazio, ti ringrazio, io ho ottenuto buoni risultati come tanti poi alla fine, come tanti tennisti campani, noi abbiamo avuto in campania giocatori di livello altissimo, l'ultimo da Potito Starace che è stato numero 26 del mondo, dove fa parte anche lui di Terramia, come tanti tennisti. Questi altri tennisti protagonisti, due binari che si intrecciano sicuramente perfettamente in una storia personale di grande valore, tanti insegnamenti da cui trarne, però io ti chiedo, tanti anni a fianco a Pino, ai sogni di Pino, che cosa hanno significato per te? Che cosa dunque oggi puoi dire Pino ti abbia insegnato? Allora, diciamo che lui ha sognato e il suo sogno si è trasformato negli anni, da bambino aveva, da ragazzo adolescente aveva il sogno di diventare campione, poi ha coltivato la voglia di sognare, forse è questo che mi ha insegnato, di non smettere mai di avere un obiettivo nella vita, adesso di sognare magari un'altra cosa, il sogno è stato proprio terra mia, di non smettere di avere un obiettivo, anche se, diciamo, il primo è fallito, tra virgolette, perché è stato un insegnamento per la vita vita, sì, mai mollare, avere sempre un obiettivo, avere sempre un obiettivo, perché poi, diciamo, il traguardo è sempre personale, tra l'altro parlavamo di tanti personaggi, tu ne hai incontrati tantissimi di altissimo profilo, come Diego Nargiso, Paolo Canè, Omar Camporese, oggi c'è sicuramente una nuova generazione anche di tennissi, che fanno emozionare, come per esempio Berrettini, ecco, c'è qualcuno su cui riservi uno sguardo preferito? Sì, io grazie, questa è una bella domanda che hai fatto, nel senso che questi tennisti che hai elencato, io grazie a Umberto Rianna, che è il coach di parecchi di questi tennisti, c'è Berrettini, c'è Sinner, il tennis, diciamo, che ha avuto un'evoluzione pazzesca in questo ultimo periodo, dove stanno veramente i giocatori, abbiamo Berrettini, che è il numero 6 del mondo, Sinner numero 10, poi abbiamo anche Sonego, Musetti, diciamo che è eccezionale questa annata, forse è un'annata che non veniva dagli anni 80, da molto tempo con Panatta, Barazzutti, Bertolucci, speriamo bene perché abbiamo bisogno di questi campioni che, insomma, Rivigurisca nel mondo del tennis, tra l'altro l'incontro particolare a Napoli, anche con Bjorn Borga? Quello sì, quella è stata una cosa bellissima che me la porto nel cuore, infatti la locandina racconta, io da piccolo, praticamente, cioè scusami, io da grande... Vediamo, 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 vediamo la copertina così, come anche per salutare il pubblico, te la mia, commentavi? Dicevo, questa è una parte che devo ringraziare Anto Sullo, il vignettista, che poi ha lavorato anche qua negli studi di Canale 8 moltissimo tempo, e la copertina racconta, diciamo, io da piccolo, che mi sogni di diventare campioni di tennis, che poi non siamo diventati campioni di tennis, però alla fine comunque abbiamo vissuto... Campioni di vita, esatto. Campioni di vita, bravissimi. Complimentissimi, terra mia, l'opera di Giovanna Danna, che ripercorre, ricordiamo, la storia di Pino Ferrara, la storia di suo marito, per l'appunto, con al centro lo sport, ma soprattutto il mondo del tennis. Complimentissimi. Grazie. E noi ci ritroviamo tra pochissimo, piccolo Black, restate con Mattina Live. Grazie.